Anche in questa puntata affrontiamo, vi proponiamo, le opere di un artista molto, molto importante, ancora vivente, Lucio del Pezzo, però vi proponiamo, vi parleremo delle opere su carta, che sono opere certamente più accessibili, per cui una puntata rivolta quasi esclusivamente ai nuovi collezionisti, ovvero a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell'arte, investendo, spendendo magari somme non molto esagerate. Le opere su carta di Lucio del Pezzo possono essere reperite nel mercato delle aste internazionali con poche migliaia di euro. Questo non significa che non valgono, semplicemente perché, specialmente in Italia, la cultura che esiste in Italia fa sì che le opere su tela costino 10 e quelle su carta costino 1, ma questo è un discorso che vale prevalentemente in Italia, mentre nel resto del mondo non c'è questa differenza. Però noi, rivolgendoci ai nuovi collezionisti, questo lo diamo come un segnale, come un input, e quindi qualora qualcuno volesse avvicinarsi, comprare artisti già importanti, storicizzati, potrebbe prendere le opere su carta di Lucio del Pezzo. Vediamo delle aggiudicazioni. Intanto nelle aggiudicazioni vediamo che i record, si denota subito gli importi che sono nell'ordine delle migliaia. Vediamo però che le opere che resistono, che hanno il primato di aggiudicazione, sono opere ancora del periodo informale, ovvero fino agli anni, fino al 1960. Quindi le prime opere sono, vedete, hanno questo taglio informale. In realtà Lucio del Pezzo, negli ultimi anni, si contraddistingue per i suoi casellari, cosiddetti casellari delle opere geometriche, molto razionali, molto eleganti, contraddistinte da figure triangolari, da cubi, frecce, X, lettere dell'alfabeto, sfere e altri simboli così comunque geometrici. Ecco, queste opere, come vedete, 5, 6 mila, 7 mila euro, sono certamente delle somme molto, molto abbordabili. Qui notiamo una particolarità. Vediamo che l'opera che nel corso degli anni in realtà ha avuto la maggiore aggiudicazione non è la prima, paradossalmente, che è aggiudicata nel 2011, ma è un'opera aggiudicata nel 2007, specificatamente questa, che è, come vedete, appartiene ancora al periodo informale. Perché dico che è l'opera che è stata pagata di più? Perché vado a confrontare il coefficiente. Questa è l'opera che ha il coefficiente maggiore. Quindi è l'opera, dato che il coefficiente è dato dalla somma delle basi diviso, cioè l'importo diviso somma base più altezza, significa che per acquistare quest'opera in proporzione sono stati spesi più soldi rispetto alla prima. Questa è un'opera 24 per 34 e sono stati spesi circa 5.600 euro. L'opera che detiene il record è 69% e sono stati spesi 7.300 euro. Quindi in proporzione quest'opera, appunto il calcolo del coefficiente, quest'opera in proporzione è costata molto di più, anche se l'importo è inferiore. Ma quello che conta è appunto il coefficiente. Vediamo l'andamento dei coefficienti, dei coefficienti medi nel corso degli anni. Vedete che è altalenante. Il fatto che sia altalenante, quindi che salga e poi diminuisca, non dipende dal fatto che l'artista era più o meno considerato dal mercato, ma semplicemente dalla tipologia delle opere. Proprio perché, come abbiamo appena visto, se magari in determinati anni sono state vendute opere della fine degli anni 50, oppure opere recentissime, magari molto piccole, ecco che i coefficienti medi possono essere alti oppure bassi. Quindi non dobbiamo farci ingannare se dal 2016 al 2018 c'è una discesa, oppure ugualmente se dal 2009 al 2012 c'è stata una leggera salita. Dipende sempre da cosa offre il mercato. Quello che ci sentiamo di affermare, ripeto, rivolgendoci prevalentemente ai nuovi collezionisti, è che le opere su carta di Lucio del Pezzo possono essere messe tranquillamente in collezione senza correre grossi rischi. Grazie a tutti.